Grazie a tutti. E niente, con Gerard Depardieu, siamo circondati dalla gente, ecco sta facendo la degustazione, scusate, messo. Paolo, 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 di lì che poi c'è il Barolo di 50 anni, ok? Ok, grazie. Allora, un premio per te. Non lei, eh? Questo che c'è qua. Posso approfittare? Chi mi tiene il microfono? Voilà. Posso? La bottiglia è del Barolo, del 64 a 50 anni. Te la do volentieri, da parte di Norossetti, l'Ucepe, che noi rappresentiamo, Ucepe Europa, quindi ben volentieri. Te la dà, te la do. Comunque, lì ci sono tutti i nostri numeri di telefono. Comunque, dicevo, non avevo più la scatola del Barolo, perché sono passati 50 anni. Un amico francese mi ha portato lo champagne, restituisco la scatola dello champagne con il Barolo e il 50. Grazie. Ok, grazie. Posso fare una foto? Una foto con la Miss? Eh sì, eh? Un premio per te. È molto importante. Posso farle una domanda, presidente? Il fatto che l'abbia provato Depardieu, per noi è una garanzia. E quindi, sa se è formidabile. Viva Gerard e viva Levaldici. Viva Levaldici. Ancora una foto, eh? Ok, grazie. Grazie. Ok, perfetto. Grazie. Ciao. Ok. Alberto, andiamo... Grazie! è così è visto valore della terra che fanno il prodotto è anche il prodotto che perché lei aveva la felicità di non avere questa grande surfa come in francia anno 70 e loro hanno uscisa hanno distrutto la montanità contadina la cosa più buona che ha assaggiato la vita qui va la prima volta che hai conosciuto alberto cirio che cosa hai pensato se in dieci anni è cambiato il tuo giudizio si alberto ha fatto molto di cose per il turismo anche l'ultima volta che l'ho visto è stata a brussel con un amico suo è amico miglio perché napoli è una città che io amano con alberto lui fa a raggiungere cosa così e parla molto bene nel suo paese girare un film e perché girare un film come quello si ferma si guarda e si aspetta si è sogno un film è inumano grazie a tutti